Grande successo per il workshop di Action Group di Firenze. Erano oltre 500 gli iscritti all'appuntamento del 10 marzo 2014 dedicato al retail tra arredamento e contract, svoltosi nella prestigiosa cornice della Fortezza d'Abbasso. Intervenuto in qualità di relatore ha anche Giovanni Caggiano, IVM Office. Credo che questa platea sia una platea ideale perché presenta architetti estremamente acculturati, forti di quelle che sono le radici di questo luogo. Abbiamo cercato di spiegare loro chi siamo e cosa facciamo in modo sintetico. Abbiamo riscosso da parte loro attenzione nella visita al nostro stand perché erano desiderosi di conoscere e approfondire i temi che abbiamo svolto in questa relazione. sottolineiamo come in quello di Milano anche oggi e a Firenze il valore di Lightwall e dei materiali che abbiamo presentato perché con questi prodotti che hanno sicuramente destato attenzione abbiamo intenzione di procedere, di proseguire per costruire questo nostro nuovo modo di essere azienda. Abbiamo parlato dell'aspetto legato anche alla formazione e a quello che è stato più il suo intervento. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti della giornata, come sta andando? Sta andando bene, anzi abbiamo avuto queste visite che ci hanno fatto capire quanto era importante per loro questo discorso. Molti di loro non sono addentro all'ambito ufficio anzi sono nudi di fronte a questa materia però hanno appreso da noi queste novità con la volontà di poterli impiegare anche nelle loro attività specifiche di progettisti, di architetti. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!